Quello di ieri sera è stato un vero e proprio evento tra i più importanti di questo Natale 2015 per la città di Catanzaro. La riapertura dello storico super cinema in pieno centro cittadino. Dopo anni di chiusura a causa della crisi, un gruppo di imprenditori riunitisi in un'associazione chiamata Dentro le Mura ha deciso di prendere in mano la gestione del cinema e farlo rivivere. L'idea è nata subito dopo l'estate, abbiamo cercato di fare una scommessa tra un gruppo di amici di vecchia data e possiamo dire ad oggi di esserci riusciti. Siamo in 14, tutti professionisti, imprenditori di Catanzaro, ci conosciamo da tanto tempo. Avevamo questa esigenza di restituire al centro storico di Catanzaro una sala cinematografica. A questo punto pare che i catanzaresi non abbiano più scuse per ricominciare a frequentare le vie del centro storico e sembra che qualcosa si stia muovendo. Noi ce la stiamo mettendo a tutta, però i catanzaresi stanno rispondendo benissimo perché il corso specialmente durante fine settimana con la chiusura del traffico è pieno proprio di gente che ha ricominciato ad acquistare anche nei negozi del centro storico. Poi l'apertura di stasera per noi è il secondo cinema, due cinema avevamo e quindi tutte e due aperte è un grande motivo di soddisfazione. Un ringrazio molto, voglio farlo.